Una vera e propria cittadella dello sport vedrà la luce al liceo Piero della Francesca di Arezzo. Ad annunciarlo è stato il dirigente scolastico Luciano Tagliaferri, preside anche del convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Uno spazio che sarà fruito fondamentalmente dalle scuole annesse al convitto nazionale, scuola elementare, scuola media, i licei in via 25 Aprile, ma come abbiamo detto potrà essere un'area che noi metteremo a disposizione della provincia e anche dell'ufficio scolastico provinciale. Quindi in uno spazio che fino ad ora era completamente inutilizzato, in un momento come questo nel quale c'è bisogno di spazi anche all'aperto, noi finalmente dopo tempo abbiamo iniziato dei lavori per la sistemazione di questo resede che prevede un primo lotto, intanto per la sistemazione a giardino, la recinzione e soprattutto già la presenza di un impianto sportivo che potrà essere appunto in questo momento dove all'interno, ma anche dopo sicuramente, diciamo ci sono tante paletti e tante preclusioni per permettere ai nostri giovani di sfruttare al massimo il fare sport all'aperto e anche trovare un momento di distrazione e di distensione rispetto all'acodianità, specialmente in questo momento all'interno delle scuole.